La squadra di Chelsea Che squadra? Ehm... Bloomberg? Eh? Bloomberg? Eh? Il Bloomberg ti ha chiesto andare a giocare con loro? Chi ha chiesto? Ehm... Cristian da Rold Da Rold? Rold E tu cosa l'hai chiesto? E pensa... E pensa... E mi avevo anche chiesto anche un numero di maglia Ma ti erano offerto anche i soldi? No, gli avevo anche offerto anche la maglia Che maglia? Gli avevo offerto anche la maglia numero 10 Addirittura... E io lo pubblico G! Hai risultato? G! Dai! E' ufficiale G!